L'obiettivo è quello di rilanciare l'unitarietà territoriale. Oggi ci sentiamo molto frammentati, la provincia non ha svolto un ruolo che poteva essere volontaristico di coordinamento del territorio, anche se non sta nelle funzioni che la Del Rio ci ha dato nel 2016, ma si poteva fare molto di più. Oggi assistiamo a una serie di problemi incredibili, lo svuotamento delle aree dell'entroterra, la criticità delle aree mediane collinari e una criticità ulteriore per un problema di concentrazione di residenze e attività lungo la costa. Nessuno regola questo. Il piano territoriale di coordinamento vecchio di 20 anni non ha più senso perché bisognerebbe rifarlo e dare un ruolo ai territori marginali perché questo ci rende tutti più forti. Entrare in questa realtà, in questa lista, la provincia al centro, è stata una scelta semplicissima perché l'amministratore vive sul territorio, vive le difficoltà, le gioie e anche le possibilità future. Secondo noi possiamo dare una voce a quei territori anche dell'Unione Montana, insomma anche dei piccoli comuni perché io sono un comune medio, chiaramente rispetto ai comuni italiani e possiamo dare delle risposte che sul territorio mancano. Non sarà semplice perché la provincia ha anche questo aspetto dopo la variazione del Rio per cui le competenze sono molto limitate e anche i fondi sono molto limitati. Però magari scendere nelle condizioni del problema invece di andare a dire che è di destra o è di sinistra, lasciamo che ci sia una razio in quello che noi facciamo. Sarebbe utile spogliarsi un po' da questo tipo di casacca. È il discorso che ci ha dato la spinta per creare questa unità di sette persone. Questa lista che cerca di non avere casacche ma avere o dare l'ascolto ai territori e la possibilità delle soluzioni. Ho appoggiato il progetto di provincia al centro e anzi l'ho supportato e l'ho promosso come consigliere provinciale uscente e come sindaco da Pignano perché pensiamo e penso che gli amministratori territoriali dei nostri comuni possano dare un contributo costruttivo di proposte, di idee, di ragionamenti per un buon governo dei territori. La provincia ha molte competenze ma di sicuro è anche un ente sovracomunale che viene visto dai comuni come riferimento per molte tematiche importanti. Parliamo dei rifiuti, parliamo del settore scuole, parliamo dell'idrico, quindi è importante che in provincia il Consiglio provinciale sia rappresentato da tutti i territori e che più amministratori locali possano fare questa esperienza per poter portare ognuno un loro contributo. La lista valorizza tutti i territori della provincia di Macerata e era necessario rappresentarli tutti. Sappiamo bene che i piccoli centri sono la maggior parte della nostra provincia, le aree interne del territorio sono importanti perché sono parte fondamentale di tutta la provincia e questa lista ha valorizzato finalmente tutte le voci del territorio e personalmente rappresento l'area più interna della nostra provincia e quindi posso portare in questa lista le problematiche dei cittadini di quei territori. Per cui ritengo fondamentale che questa lista abbia davvero una pluralità di voci e quindi rappresenti davvero tutta la provincia. Le candidature che sono state messe in campo sono rappresentative di tutto il territorio quindi anche addirittura con un'attenzione maggiore alle aree interne e alle aree mediane di questa provincia che sono quelle che più soffrono sia dal punto di vista infrastrutturale, la realità del potenza che veramente è in una situazione catastrofica, le aree interne che devono essere valorizzate e diciamo che i candidati rappresentano un po' quella che è un'ossatura di responsabilità che abbiamo cercato sul territorio. Quindi abbiamo messo in campo una responsabilità territoriale, una responsabilità che guarda ai bisogni del territorio, ai bisogni delle persone perché la provincia si occupa anche di formazione e istruzione secondaria e su questo è stato costruito un programma largamente condiviso. È una forza che potrebbe ulteriormente crescere perché si basa sulle idee, non sul potere e quindi a volte le idee vincono sui poteri.